buona domenica e buongiorno oggi vi parlo di un film che si intitola rinascita virtuale in cinese huanjie chiong shen letteralmente mistico mondo e chiong shen che vuol dire rinascita è un film la cui idea è bellissima cioè utilizzare la realtà virtuale per curare i problemi delle persone e per superare le persone traumi o incidenti della vita reale l'attore joe way è bravo peccato che l'implementazione sia la realizzazione non sia come dire conforme alle aspettative il film dura circa 90 minuti a me personalmente non è piaciuto moltissimo infatti non lo consiglio però l'idea è veramente fatta bene e nel caso in cui potessimo fare un altro film sarebbe meglio vi auguro buona giornata sottoscrivete il canale e a presto